da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche e sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche d'arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo laura e marco ti aspettano presso lo showroom a rio salso di tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio hai visto quante novità al conade di montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto si bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al conade di montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al conade di montecchio amici di insieme a canestro buonasera e benvenuti alla 23esima puntata del nostro programma giunto ormai a alla quarta stagione insieme a canestro segue le vicende della nostra vl e come potete immaginare questa sera siamo particolarmente felici avevamo detto speriamo di raccontarvi cose belle e stavolta ve le racconteremo davvero intanto vi dico che potete seguirci sul canale 80 di rossini tv in diretta visibile in tutta la regione mar che poi sulla pagina facebook in streaming sulla nostra app che potete scaricare e anche sul sito internet di rossini tv come sempre un grazie ai nostri sponsor conade montecchio e macchini ceramiche e questa sera gli ospiti che abbiamo ci fanno particolarmente felici l'abbiamo aspettato per un po di tempo però è bello averlo dopo una vittoria benvenuto coach meo sacchetti buonasera e poi abbiamo chiamato un collega un giovane collega giornalista di da zone kevin bertoni benvenuto ciao buonasera ecco adesso passo la parola a giovanni zidda perché anche questa sera vi indicherà come mettervi in contatto con noi come sempre potete porre domande da casa e tramite whatsapp e poi rispondere al contest che lanceremo fra poco un contest per veri intenditori perché risale a un po di tempo fa quando coach meo era un giocatore e potete vincere come sempre due biglietti per la prossima partita che vi ricordo si gioca sabato sera e quindi chi risponderà per primo si porta a casa due biglietti per la partita contro pistoia vai giovanni buonasera buonasera beta buonasera agli ospiti studio buonasera a tutti i telespettatori come sempre il numero whatsapp 370 366 72 10 oppure potete commentare nella diretta facebook di rossini tv quindi due biglietti che vanno aggiudicati al primo che risponderà corretto per sabato 13 aprile contro pistoia alle ore 20 e 30 il contest riguarda quindi proprio il nostro coach meo sacchetti qui presente il 6 gennaio 1982 si giocò il primo derby tra le due cucine a pesaro fra scavolini e berloni torino che schierava meo sacchetti una sfida che valeva il primo posto in classifica vogliamo sapere quindi come finì quella partita ne abbiamo parlato poco fa con meo ma ovviamente meo non può dire nulla perché dovete indovinare voi quindi il più veloce andate a googolare su internet trovatevi questa partita del 1982 quindi tanti anni fa a un bellissimo derby che finì tirato tra due sponsor pesaresi era stato bello avere due sponsor di pesaro in serie a scavolini che sponsorizzava pesaro berloni che sponsorizzò torino per alcuni anni meo un periodo bello il tuo in campo a torino no sei una città a cui sei rimasto legato beh sicuramente voglio dire c'ero giocato prima ci sono ritornato dopo e poi ho conosciuto mia moglie sono nati i miei figli perciò qualcosa di particolare poi particolarmente dopo le olimpiadi del 2006 diventano ancora più bella perciò chi non c'è mai stato ci vada che vale la pena ma il consiglio anche turistico no no ma è vero tutti quelli che ho parlato mi ha detto guarda siamo venuti giù mi ha chiamato un giornalista di sassari che è andato giù con il figlio a vedere il tennis che ci sono stati le finali e ha detto poi abbiamo girato abbiamo visto non pensavamo che fosse così bene effettivamente dopo le olimpiadi del 2006 città poi le città con il fiume dentro sono più belle al mondo perciò sappiamo e poi ci siamo stati anche per le final eight di coppa italia quindi lì ci siamo insomma abbastanza aggagati senti che viene invece tu diciamo questo percorso giornalistico che ti ha portato da pesaro adesso ad approdare in tv com'è lavorare ad a zone com'è stare dentro il basket a livello nazionale per un ragazzo che è partito da pesaro bello una bella esperienza si sono partito sono partito da qui facendo l'università a orbino quindi diciamo non troppo lontano poi sempre avuto diciamo così questa vocazione per il giornalismo e per la palacanestro un po complice anche diciamo così la città dove sono cresciuto e poi sono appunto andato a milano per studiare continuare questo percorso e adesso ho la possibilità di toccare con mano ancora di più e rimanere in contatto col mondo del basket di serie a e anche appunto di coppe grazie ad a zone quindi sono veramente contento di questa possibilità e spero possa durare ovviamente nel tempo e sabato però ti fanno stare a casa tua perché mi dicevi che ti mandano di solito al nord tra cremona brescia milano invece sabato sei a pesaro sabato sì sarò qui a pesaro per pesaro pistoia vediamo come come andrà sarò io un pizzico di emozione in più esatto allora meo ti abbiamo invitato dopo la grande vittoria di sassari se perdevo non mi invitava ma certo però sai appena è finita la partita io il primo messaggio che ho mandato in società gli ho detto stavolta mandatemi il coach perché credo che non solo è stata una vittoria importante ma per te vincere a sassari oltre che pesaro non aveva mai vinto nella sua storia quindi hai sfatato un tabù e la cabala finalmente è con noi ma com'è vincere in un campo dove sei stato un idolo ma guarda io pensavo di non aver mai vinto a pesaro però invece mi hanno a sassari però mi hanno detto che avevo vinto con cremono dopo un supplementare non ti ricorda non mi ricordavo perciò ho fatto questo beh sicuramente è logico che è un posto in cui stato bene abbiamo avuto degli ottimi risultati porto solamente dei ricordi belli è logico che poi la partita è quello che mi ha mi ha reso più più felice perché è stata una partita particolare noi non attraversavamo sicuramente un coso di entusiasmo qualcosa si era visto già attreviso l'avevano giocata fino alla fine poi sbagliato un tiro non siamo potuti giocare fino alla fine però voglio dire c'è stato di buono perché non siamo partiti bene poi siamo riusciti a prendere abbiamo finito il primo tempo bene ecco le immagini poi loro ci hanno ci ha ripreso ho fatto un break però lì non abbiamo mollato e abbiamo fatto un quarto quarto importante e tutto è logico che per noi questa partita qual di fuori dei due punti ci dà uno spirito importante per il proseguo sperabile che che questo ne parlavamo oggi dopo la allenamento che ho visto i miei giocatori parlavo con il mio staff che tra le altre cose c'è un buonissimo rapporto c'era la prima volta che li vedo così che parlano urlano si lamentano perciò finalmente sono vivi su questo è sperabile però sempre un po paura però adesso solo un pochettino più sono un pochettino più rilassato sotto questo perché ho visto i miei giocatori fare il loro massimo e poi quello che vuole un allenatore certo senti è spuntato fuori dalla nebbia in un finale di partita dove non era mai stato decisivo forse non aveva mai avuto l'opportunità di avergli questi palloni decisivi bluiet no tu sei stato anche un giocatore come te lo spieghi un ragazzo che all'improvviso dimostra che invece le responsabilità le può reggere quando tutti pensavamo di no ha fatto dei canessi clamorosi beh lui è un giocatore che fa canestro ogni tanto si estranea ogni tanto non siamo bravi anche noi a cercare di coinvolgerlo e lì onestamente ha la sua qualità migliore sicuramente questo tiro anche storto però ha questo suo equilibrio importante però un paio di volte l'ho visto penetrare cosa che nelle ultime partite non l'avevo non l'avevo visto lo dico piano perché aspetto sabato è vero senti ma poi alla fine però non si sono arrabbiati i tifosi di sassari anzi vi hanno invitato fuori a mangiare insieme questa cosa dei cofani aperti che ha avuto molto rilievo poi su tutti i giornali una cosa bellissima è stata beh ma quello è una cosa che i tifosi un gruppo di tifosi di sassi l'ha fatto certe volte con rapporti anche quando vanno in trasferta ci sono anche delle delle altre realtà che ricambiano questo però lì è stata proprio questa tradizione che la fanno è una cosa una cosa bella poi specialmente voglio dire è successa dopo che avevano perso la partita perciò prende ancora più valore però bisogna conoscerli bene i sardi per apprezzarli è certo tu c'hai la residenza quindi lo sai bene come sono no? beh sicuramente sono veramente è qualcosa di particolare un po' diverso dalle altre persone ti studiano molto in profondità e con loro non puoi barare sicuramente ecco a proposito scusa beh intanto salutiamo anto torres quindi l'unica tifosa che era parlata a sassari essendo di sassari vediamo subito un messaggio che ci invia buonasera a tutti buonasera coach buonasera volevo fare complimenti alla vittoria libertas pesaro per aver fatto questa bellissima vittoria contro la dinamo domenica al palazzetto uno dei giorni più belli della mia vita solo il vetro ci separava ero dietro di voi avrei voluto abbracciarvi uno a uno teniamo accesa la speranza e continuiamo ed è vietato mollare speriamo di rivederci a pesaro queste le parole di orgoglio bianco blu che ha organizzato cofani aperti il pranzo che unisce i tifosi bianco blu con tutti i tifosi e sicuramente la squadra e la società avversaria sicuramente una condivisione come lo sport in amicizia un saluto al coach e un grandissimo in bocca al lupo per questa fine stagione grazie anto come sempre collegata con insieme a canestro ma siamo contenti perché insomma una ragazza di sassari che va a vedere la vl da più di 10 anni non l'ha mai vista vincere non voleva venire perché aveva paura che fosse la partita magari della fine invece è stata quella della risurrezione te l'aspettavi kevin questa vittoria onestamente onestamente no onestamente campo difficile visti i numeri vista anche le qualità di sassari e magari visto anche come ci arrivava a pesaro questa partita anche a livello mentale ed è stata appunto per questo una vittoria sorprendente oltre che dal punto di vista di come è arrivata anche per quello che hanno messo i ragazzi in campo e magari quello che ha visto il coach che diceva prima in allenamento queste cose in più che magari queste piccole cose che non si vedevano mi ha sorpreso blue yet molto positivamente non tanto per quanto per il fatto che ha tirato assegnato con regolarità anzi con ottime percentuali se non vado errato ma più per la fiducia che ha avuto nei suoi mezzi le ultime uscite non è stato diciamo così molto molto attivo però ha avuto voglia di prendersi la palla quando contava e non tanto i tiri aperti l'ultimo canestro l'ultimo canestro in penetrazione sono rimasta attonita proprio non tanto un tiro aperto da tre punti perché blue yet siamo la palla lì da tre punti quella la devi tirare sempre è roba sua però la penetrazione e l'ha detto poco fa e anche il fallo che ha preso in difesa importante nell'azione dopo perché è lì che si vincono le partite poi su quella metà campo lì oltre a segnare 15 16 punti senti me a volte si dice che togliere dalle squadre può aiutare adesso non è che hai deciso tu perché tu te sei fatto male banfort è andato a casa per motivi gravi familiari anzi lo salutiamo e facciamolo in bocca al lupo perché tutto finisca bene in questa vicenda però ecco quanto ha influito il fatto di trovarsi in soli notto senior diciamo con due ragazzi tutti più responsabilizzati forse anche un po con le spalle al muro sì il problema di questo può essere un vantaggio dall'altra parte mi fa arrabbiare perché a un certo momento qualcuno è difficile trovare questo di questo questa giustificazione su questa no di avere qualcosa perché poi voglio dire se un giocatore di pallacanestro c'è il tuo momento certe volte non sarà quel momento lì sarà un'altra partita però voglio dire questo succede in tutte le cose cioè quindi tu dici non bisogna per forza aspettare di sentirsi protagonisti per fare qualcosa a bene no però voglio dire quando faccio parte di una squadra io dico sempre questo quando faccio parte di una squadra io sono contento anche se non gioco faccio parte di una squadra che se gioco tre minuti perché gioco faccio parte di un gruppo se invece voglio essere un una persona un atleta così gioca tennis ma giochi a tennis ma fai solo singolare perché poi già nel doppio devi già andare da ribalta perciò voglio dire quando fai parte di un gruppo devi capire che il gruppo è la cosa più importante uno deve mettere le proprie capacità e ogni tanto c'è qualche giocatore che perde qualcosa di suo perché vorrebbe dimostrare però ci sono dei momenti in cui si salva però l'importante è capire questo adesso abbiamo questa questa situazione qua abbiamo sicuramente quei due ragazzi che hai maretto e feinche che ci hanno aiutato ecco io non riesco a dare il nome lo chiamo paul perché il cognome suo non di fai io adesso lo chiamo paul che e sono dei giocatori che a me piacciono molto come ragazzi ci danno una mano veramente importante non sono delle persone messe lì proprio perché dobbiamo mettere qualcuno sono giocatori che quando giochiamo fanno la loro parte perciò questa è la parte importante di questo e io ho sempre questo questo piacere di vedere anche dei ragazzi giovani con entusiasmo far parte della partita è sempre più difficile nella nostra pallacanestro ma ma infatti ci avevi spiazzato quando sei arrivato che buttato un maretto in quintetto ma sì perché sai non c'era uno l'altro volevo vedere un pochettino poi questo ragazzo qua è un ragazzo che onestamente avrei potuto anche metterlo dentro però come hai detto tu ne avevamo talmente tanto e qualcosa lui ha a un pochettino partito questa mia forse meritava qualcosa di più nei momenti un pochettino più difficile ma ogni tanto può avere un futuro secondo te molto io penso che sia lui che anche paul siano due due giocatori due ragazzi che ormai li chiamo come giocatori che possono essere qualcosa riprendendo questo però faccio un qualcosa che non c'entra niente mi piacerebbe che in un futuro tra qualche anno qualcosa che ci fosse dentro veramente qualche giovane di pesaro hai capito magari cioè ci vorrebbe però strano che sembra strano che non ci siano queste cose qua perché voglio dire c'è sempre stato un po di storia l'avete sempre avuti dentro dei giocatori cinciarini diciamo l'espressione però è ormai a fine carriera però sì però è molto importante per vedere anche questo attaccamento di di questa città con queste hanno detto che ci sono dei buoni dei buoni prospetti perciò l'importante è continuare a lavorare un buon auspicio da parte tua coach senti volevamo aprire un attimo la parentesi del nuovo arrivato anche perché dobbiamo dargli benvenuto giustamente dopo l'aprita di sassari questa è la odon love durante le visite a fisoclinics col dottor benelli insomma il fisico ce l'ha tu l'hai visto per due allenamenti però insomma a volte basta farsi per farsi un'opinione se non altro sotto l'aspetto umano cosa potrà portare beh sotto l'aspetto umano si è visto che ha capito dove dove in questo modo è logico che per lui anche un po difficile arrivare a capire sulle nuove regole difensive che sono un po diverse da quelle che facciamo noi e tutto però sicuramente avrà bisogno di di avere ancora qualche allenamento e poi alla fine di tutto poi è la partita che ti darà l'esatto l'esatta situazione di questo è logico che io in questo momento ho questo gruppo di giocatori che hanno questa questo loro dinamismo devo andare con questi giocatori qui è logico che se mi troverò in difficoltà con qualcuno lui è un giocatore però il problema è che lui deve capire che viene dentro in un gruppo che per ora già già dato delle risposte ci attendiamo delle risposte quindi a questo punto ti fidi di mazzola sicuramente che mi fidi da mazzola poi mazzola giocherà bene giocherà male farà dei falli o farà un coso oppure avremo dei problemi con degli altri giocatori lo spazio c'è non c'è problema su questo però devo andare in questo modo qua poi la partita vediamo come va la partita però è giusto che le cose vadano in questo senso d'altronde anche con foreman è fatto così è arrivato tu gli hai lasciato guardare un po la partita dalla panchina con brescia dico poi l'ha buttato dentro dopo ha fatto il diavola 4 però non sempre succede insomma ai debuti questo beh sicuramente speriamo che succeda anche questa volta come abbia un bel debutto anche lui senti che vi molti tifosi dopo la sconfitta di treviso abbacchiati diciamo da questo risultato avevano invitato la società a risparmiare i soldi sul mercato e a tenerli per la prossima stagione no però dopo aver sbancato sassari sarebbe stata una follia finire la stagione senza prendere no un rinforzo sotto canestro che perché possono capitare tante cose anche una semplice distorsione a caviglia un'uscita per cinque falli una febbre oppure niente però comunque può esserci bisogno anche di rifiattare quindi secondo te questo ragazzo che nella prima volta che varca l'oceano che impatto potrà avere sei curiosato un pochettino su internet per capire chi è ma io parto da da un concetto che prima di finché c'è la matematica finché la matematica non ti condanna o finché comunque tu puoi perseguire i tuoi obiettivi non ha senso dire no beh risparmi i soldi o non faccio quello non faccio quello sforzo in più ma quella è una cosa decidiva che secondo me va fatta a pesaro si arrivò a lungo sì perché l'infortunio di tutte ha accorciato le rotazioni e si è visto anche contro sassari mazzola ha fatto un partitone a livello difensivo dall'altra parte c'erano di hop e gombò non proprio due semplici da affrontare mi ha fatto un partitone però dopo di un po anche a livello di fiato se arriva a qualcuno parlando di love ho visto un ragazzo del 98 da quello che ho letto e ho visto ma diciamo così tra il dire e il fare c'è di mezzo all'oceano e quindi bisognerà vedere sabato e nelle ultime partite è un ottimo è un giocatore veramente discretamente bravo a coprire l'area a essere messo dentro l'area a livello difensivo mi ricorda un pochino a nosiche anche a livello fisico e di altezza perché se non sbaglio si passano pochi centimetri 2 0 3 anche se c'erano spacciato per 2 0 5 però dappertutto c'è scritto 2 0 3 esatto però 118 kg su 2 0 3 meno sono tanti è sbagliato il colore però è quello sì la piccola differenza vuol dire molto no no vuol dire perché sai ci sono anche bianchi qualche bianco sa no no ma anche poi hanno sì che così non è che fosse un dinamismo eccezionale di questa cosa qua però voglio dire però aveva delle braccia lunghissime però esatto molto presente sotto però tanto non ce l'abbiamo non parliamo di quello che abbiamo no no sì ma per fare appunto esatto un rimando una sorta di paragone e poi l'ho visto spesso anche su situazioni di pick and roll preferisce rollare prendere la palla a spalle a canestro diciamo così non apre tantissimo il campo però lì sotto si fa sentire e sabato parlando di gente che si fa sentire c'è Derek Cogbeide perché magari parlando di Pistoia qualcuno può dire sì ci sono Moore e Willis fermi tutti c'è anche Derek Cogbeide che arriva dalla 2 ha avuto un impatto devastante secondo me è uno dei migliori centri arriva dalla 2 ed era giocava 35 km da qua qualche piccolo rimpianto c'è rispetto a questo giocatore esatto quindi sarà un debutto importante per l'ho contro un giocatore come Obeide secondo me senti Giovanni se hai domande da casa noi siamo pronti sì iniziamo subito intanto buonasera coach in bocca al lupo a Kevin per questa stagione che sta iniziando con The Zone una domanda per coach Sacchetti da Mauro questo ce lo scrive Gigi Mauro da Fossombrone ci scrive buonasera coach cosa ti piace di più di Pesaro sicuramente come città oltre al basket? beh la casa dove abito sono contentissimo abito sui colli perciò quello mi piace lo dico io abito nella casa dove stavo a Darren Day quindi ti hanno trattato bene dai no no sto bellissimo poi voglio dire le città col mare mi sono sempre piaciute perciò trasmette qualcosa che chi non l'ha mai provato il mare è diverso poi io ho preso a casa d'Alghiero perciò non mi stupisco di questo perciò un giorno hai detto nella sala stampa prima della conferenza non pensavo di trovarmi così bene a Pesaro cioè ti sei trovato meglio di quanto pensassi a livello umano parlo sicuramente mi aspettavo mi ha aiutato tantissimo il gruppo di lavoro i ragazzi che lavorano con me i miei vice allenatori Matteo anche i massaggiatori c'è proprio questo gruppo che a me piace molto cioè questo mi aiuta sotto questo aspetto qua perché mi sento mi sento con una atmosfera bellissima che è la cosa che poi si cerca di trasmettere sul resto perché sono tutti pesaresi quindi sicuramente ti spiegheranno tante cose ma sì però poi io sono molto schietto con loro e voglio che loro siano schietti con me che non mi dicano quello che penso è giusto che quando uno lavora abbia questo rapporto perciò questo è stato sicuramente una cosa che non mi sarei aspettato onestamente di trovare questo mi ha mi ha mi ha dato questa forza anche attraversando dei momenti difficili perché abbiamo perso delle partite brutte e tutto però loro mi hanno dato la forza di insistere su queste cose qua adesso onestamente ti è mai venuto il pensiero chi me l'ha fatto fare? sì sicuramente mi è venuto davanti a questo però sono stati bravi loro e poi quando ho iniziato a vedere qualcosa poi ho avuto questa delusione perché avevo visto che le cose sembrava che andassero in un certo modo poi quando c'è stato quel rebound lì ho avuto veramente la paura perché ho detto sai arriviamo da due partite importanti vinte e tutto poi l'atteggiamento dopo è stato veramente pessimo e allora diceva non riesco proprio ad entrare nelle loro teste e adesso le ultime due partite voglio dire le abbiamo giocate voglio dire perché si può perdere a pallacanestro però capisco quando i miei giocatori diano quello che danno questo l'hai sempre detto io ho giocato e so se danno tutto e dico oggi adesso abbiamo fatto due allenamenti che uno dice sai di solito arrivi vinci però ho notato che anche oggi anche oggi in allenamento ieri uguale che c'era una cosa che 20 giorni fa non c'era perciò lo dico piano perché poi non voglio rimanere ancora deluso però ho visto qualcosa che prima non avevo visto cioè si è acceso una scintilla forse? non lo so spero sempre ci vuole sempre una riprova perché noi abbiamo fatto sempre una vittoria persa quando pensavamo di aver battuto Brescia e cosa poi noi arrivavamo da aver perso con Brindisi in casa quella è stata devastante ma come abbiamo perso non siamo mai stati in partita poi abbiamo recuperato la differenza punti però non c'è mai stata tranne forse l'inizio e allora poi ti succede che batti quelle due squadre in quella maniera e poi ti capita a Reggio Emilia Reggio Emilia è stata veramente una cosa che non mi aspettavo una cosa così e da quel momento lì siamo andati a giocare e poi con i problemi di questi due giocatori che non abbiamo probabilmente gli altri si sono fatti carico di qualcosa di diverso e l'abbiamo giocata cioè voglio dire dopo cosa non potevo dire niente poi a Sassari anche a Sassari potevamo anche al limite voglio dire non facciamo canestra possiamo perdere però voglio dire era una squadra viva la squadra viva una squadra viva e un posto come Pesaro non può pensare che le cose sono andate bisogna mollare perché non è una cosa sportiva quando uno fa sport non muore anche se per caso fosse già stata condannata con due sconfitte non si può avere questa cosa qua uno deve giocare seriamente con serietà per se stesso prima e poi per la squadra e per l'ambiente perciò quello l'abbiamo fatto ci è arrivata la vittoria adesso giochiamo questa partita non sarà per niente facile però ci deve essere proprio quello spirito dobbiamo uscire fuori in cui non possiamo dire niente possiamo anche perdere ok possiamo perdere però diciamo perdi perché gli altri sono stati più bravi questa è una cosa che bisogna accettare è tutto però le partite che abbiamo perse noi sono state veramente dei macigni giovi eccoci allora domanda che porgo a entrambi sicuramente iniziamo subito con Kevin quanto si crede realmente nella salvezza è una possibile possiamo dire ancora possibile salvezza di Pesaro coach lei veramente merita di salvare Pesaro e di rimanere con noi per tanti anni per quello che sta facendo in questo momento vai Kevin chi è questo? questo ce lo scrive Maria una donna hai visto c'è anche le fans quanto quanto si chiama salvezza ci si crede ovviamente sono da fare quattro partite penso che a livello di calendario non siano semplicissime c'è chi è messo un po' peggio però servono tre vittorie verosimilmente parlo guardando semplicemente la classifica servono tre vittorie sicure e poi bisogna vedere anche i risultati dagli altri campi siamo in questa situazione qua infatti so che coach non ti piacciono le tabelle però adesso chiedo ad Andrea dalla regia di metterci il grafico queste qui le so tutte e quattro bisogno ci sarà bisogno di un po' di fortuna anche dei risultati delle altre io in particolare guardavo il calendario di Treviso che non è per niente facile perché Treviso riceve Milano in casa poi va a Venezia a Varese e chiude in casa con Tortona è vero che poi dopo questi risultati che sulla carta noi sembrano fattibili magari non ne succederà nemmeno mezzo però io direi magari Treviso vince solo l'ultima in casa con Tortona quindi noi potremmo farcela facendo il nostro dovere ma poi magari batte Milano e ci smentisce come la vivete voi questa volata non guardate queste cose no la volata nostra non è la volata sugli altri noi dobbiamo fare la volata su di noi noi dobbiamo pensare che la prossima partita è la più importante della stagione davanti a questo e perciò bisogna giocare veramente al massimo senza paura da sfrontati come abbiamo fatto siamo riusciti a farla fuori casa la dobbiamo fare qua ma è finito poi è finito penseremo alla prossima partita e noi non dobbiamo guardare gli altri noi adesso dobbiamo guardare noi stessi per fare il massimo di noi stessi poi se siamo arrivati alla fine il merito è nostro non è il demerito nostro noi dobbiamo pensare a noi non pensare che le altre squadre vincano perdano noi ormai a questo punto qua noi dobbiamo pensare a noi stessi e basta non bisognerebbe neanche seguire le altre squadre hai capito per fortuna giocate sabato quindi saranno gli altri a dover vedere cosa avete fatto voi noi giochiamo questa partita poi dopo arriviamo poi dopo questa partita giocheremo la prossima allora noi lo dico sinceramente noi giochiamo questa partita che sarà importantissima però non è che adesso noi vinciamo questa partita e poi di cosa ma noi potremmo anche perderla ma non che adesso perdiamo questa partita e poi le altre tre partite non contano più niente cioè questa è una mentalità che non si deve avere nello sport ok non è che poi tu dici quando ho un obiettivo se sei professionista sei professionista fino alla fine d'accordo che viene il tuo pronostico dando un'occhiata alla classifica chiedo ad andrea di mettere il grafico quello diciamo che ci ci vede al penultimo posto con brindisi brindisi ha tre trasferte su quattro secondo te è già spacciata o non me ne vogliono i tifosi di brindisi è molto complicato non è spacciato ma è molto complicato paradossalmente diciamo scusami ti interrompo un attimo va a reggio miglia e a pistoia quindi due trasferte di fila poi ospita venezia e chiude a brescia e chiude a brescia sinceramente è una montagna da scalare è difficile il calendario è molto complicato dico una cosa premesso sicuramente che io e pronostici siamo veramente due rette parallele quindi uguale prendete quello che dico prendetelo il contrario però a vedere quel calendario paradossalmente potrebbero essere più semplici le ultime due di reggio emilia e pistoia perché reggio emilia e pistoia si stanno giocando una buona fetta della loro stagione in questo momento entrambe sono in corsa per il playoff quindi è la cosa per il playoff è molto serrata alla fine venezia potrebbe intanto aver chiuso la sua stagione a livello di posizionamento nella griglia dei playoff in più l'ho vista in trasferta ricordo la trasferta a Cremona che delle volte è un po' ballerina diciamo così magari per una questione chissà di mentalità non lo so la Reiera è veramente una squadra molto forte però delle volte in trasferta ha un po' mancato l'appuntamento poi succedono delle cose clamorose come la vittoria di Varese di quasi 40 punti con Napoli che sono inspiegabili cioè Napoli vince la Coppa Italia e poi? è difficile arrivare logico che un po' di qualcosa di tensione ti crolla perché voglio dire loro arrivando dentro non da favoriti vincendo sempre quelle partite già contro reggio emilia alla fine e tutto la cosa qualche energia nel vuoto cioè ti dici che li ha un po' svuotati questa Coppa? ma io ho più paura che perdessero la prima in casa dopo la Coppa invece erano riusciti a vincere una cosa così e poi sai cos'è? è già difficile che io vada a trovare dei problemi su di me che io adesso devo andare a provare anche dei problemi sulle altre squadre sembra difficile ho già tanti problemi però ci sono alcune squadre che probabilmente hanno una discesa verticale tipo Scaffati che a un certo punto era in lotta per il playoff adesso ha perso mi pare sei delle ultime sette partite Boniccioli si è dimesso poi la società non ha accettato le dimissioni quindi forse la squadra avrà una scossa da questa cosa che è successa l'anno scorso Brescia ha vinto la Coppa Italia e poi non è andata in presa è la maledizione della Coppa sì qualche volta succede comunque è una manifestazione che ti porta via tante energie poi tu la vinci e quindi magari anche quelle cose di contorno e la festa subito dopo la festa in città con i tifosi va in comune è tempo soprattutto per squadre che non sono abituate a vincere perché se la Coppa Italia vince Milano non è che si può rilassare perché ai tifosi suoi non gli basta la Coppa Italia ma magari se succede un outsider e soprattutto con un roster diciamo così lungo non che Napoli abbia accorto per carità però con un roster che è talento di spedizione come Milano come la Virtus Bologna allora li cambia però già si è visto appunto l'anno scorso anche con Brescia però è successo delle cose diverse noi con Sassari abbiamo vinto la Coppa Italia poi abbiamo vinto la cosa di vincere con il sudetto e tu hai fatto il triplet e a Cremona abbiamo vinto la Coppa Italia poi abbiamo perso la quinta dipende molto dall'ambiente e da queste cose qua cioè quindi a Cremona sei riuscito a tenerli sul pezzo? a Cremona abbiamo perso la quinta partita di semifinale con Venezia perciò voglio dire dipende anche dal posto dove sei dipende anche molto dai giocatori davanti a questo è tutto fare un tracciare una linea ed è questa molto difficile ho qualche domanda? vai vai Giovanni allora buonasera a tutti volevo chiedere al coach Romeo Sacchetti sono Fabio e Eugenio da Vallefoglia che ci scrivono se il prossimo anno sicuramente si rimarrà in Serie 1 se sarà felice diciamo orgoglioso di continuare a rimanere qui a Pesaro ad allenare la VL allora io quando ho accettato di venire qua ho accettato per questi mesi qua non volevo assolutamente nessun contratto per l'anno ve lo dico onestamente ho accettato questo perché volevo venire a fare questa cosa qua e non ho pensato assolutamente a niente del prossimo anno non del prossimo anno non ci penso ancora perché voglio pensare adesso non ho mai pensato a niente di cosa come vi ho detto c'è stato dei momenti che pensavo proprio di tornare nel mio orticello di questo e lì sono stati bravi sicuramente il mio staff è stato bravissimi in questa cosa qua perciò io devo fare tutto il possibile perché? perché devo fare tutto il possibile per me perché è logico che lo vuoi fare per me e poi lo devo fare sicuramente per il mio staff e tutto l'insieme di fare il mio massimo possiamo fare il massimo e abbiamo visto che c'è qualcosa poi vi dico questa noi potremmo anche vincere quattro partite ed essere retrocessi però il problema di questo è avere questo spirito ed è questa la cosa importante poi quando finirà il tutto non il tutto io me ne torno sulla mia isola e poi vediamo senti ma ti piace ancora ti diverti ancora ad allenare? o c'è più stress? più divertimento? più gioia? no guarda te lo dico sinceramente arrivo mi piace è tutto e allora quando quando vedi quando vedi che i tuoi giocatori questo l'ho provato già nel tempo quando vedi che i tuoi giocatori per un po' quello che gli dici non riescono a farlo ci stai male perché dici non è possibile come è possibile che se giochi in serie A da tanto tempo non riesci però se riesci a insistere i giocatori capiscono e ogni tanto vedi che in campo questo qui fa una cosa che prima non la faceva e poi dopo è riuscito a farlo allora dici vedi ho insistito e questa è la cosa importante è una soddisfazione è quello che mi ha permesso di essere più bravo come allenatore perché io sono diventato bravo come allenatore perché avevo dei bravi giocatori io non ho mai visto uno vincere con dei giocatori scarsi i giocatori scarsi il problema è che anch'io ho allenato i giocatori magari meno forti ma avevano questa voglia qua di fare e facevano il massimo e io ero contento al di là dei risultati però i giocatori fanno diventare voi avete mai visto una squadra di giocatori scarsi vincere qualcosa? ma questo lo dicono anche allenatori che hanno vinto poi se uno si vuole prendere dei meriti chiaramente a parità di avversari forti però generalmente i giocatori forti ti fanno diventare forte come allenatore io ti volevo chiedere invece non so quanti dei tifosi che frequentano il palazzo ti abbiano visto giocare sicuramente i tifosi una grossa parte del pubblico è fedele viene al palazzo da tanti anni e si ricorda di te e mi insulta ancora adesso probabilmente però sugli spalti dell'arena ci sono anche tanti ragazzi quindi vuoi raccontare che tipo di giocatore eri e cosa chiedi oggi ai tuoi giocatori dal punto di vista tecnico anche caratteriale? beh io ero un buonissimo difensore un uomo squadra era uno che non facevo tanto canestro però a furia di stare lì facevo canestro però difendevo un uomo squadra mi piaceva molto passare la palla perché sono sempre rimasto affascinato dal ruolo dell'allenatore del playmaker ho avuto la fortuna di iniziare con Caglieris e Caglieris ogni tanto che giocavo io giocavo in promozione sono andato lì con lui e mi sono arrivati un paio di palloni nella faccia e dopo lui mi diceva tu devi guardare la palla e io dicevo come fa questo a passarvele in mezzo a questi e allora di lì ho cercato di imparare e io sono innamorato del ruolo del playmaker perché ho avuto la fortuna di allenare Pozzecco e Trevisdina e ogni volta che io vedo giocare che vedo giocare il mago della stella rossa Teodosic è un giocatore che si può andare a vedere poi magari non gioca bene ma in una partita lui fa due cose che a me che ho una certa età mi lascia ancora bocca aperta perciò è una cosa è poesia del basket è una cosa che probabilmente non si poteva insegnare non si può insegnare perché è una cosa che nasce da lui attraverso tanti sbagli che ha fatto ma riesce a vedere la palla canestro un secondo prima di quello che succede perciò quindi cosa chiedi a un tuo giocatore oggi cos'è che per te è più importante che lui abbia che ci metta io ai miei giocatori gli ho detto questo gli ho detto preferisco un tiro sbagliato che non una palla persa giusto io l'ho detto davanti a questo perché il tiro sbagliato ci può essere un rimbalzo con la palla persa così può essere contropiede perciò non voglio avere titubanze di scelte tiro o non tiro e poi perdiamo la palla è di questo e poi quindi i giocatori con te hanno massima libertà cioè non hai mai detto un giocatore perché hai tirato oppure no non l'ho detto mai però ho avuto qualche giocatore che a un certo momento lui era libero e l'altro diciamo un giocatore mediocre che tirava e l'altro molto forte di coso che gli fa la finta di passargli la palla e non la tira e questo qua dice ma come cazzo non me la passi a me la palla e allora lì ho avuto queste cose qua però sì ce l'hai raccontato l'altra volta e poi il problema di questo è l'aneddoto di Travis Diner il problema è che si chiama palla canestro e perciò è bello fare la palla canestro bisogna fare canestro questa è la cosa che hai detto il giorno che sei arrivato Kevin ti piace la filosofia del run and gun che me ho sposato e quindi insomma questo giocare di corsa prendere il primo tiro aperto o è troppo rischiosa non so come penso che sia una delle filosofie di gioco più belle e al tempo stesso più difficili da fare io ricordo un time out di Galbiati in Euro Cup di Trento perché anche Trento è una squadra a cui piace questo tipo di gioco qui in cui ha ripeto soltanto una cosa ossia correte non avete fretta run don't rush che cambia tutto perché un conto è avere fretta prendersi il primo tiro ma magari contestato soltanto perché nella mia testa devo tirare velocemente no perché così tendenzialmente le partite non le vinci un altro conto è correre intanzitutto difendere bene per crearsi la possibilità di correre correre in transizione e prendere un tiro aperto o soprattutto avere la possibilità di avere giocatori che oltre veloci di gambe sono anche veloci di testa quello lì ti cambia tutto e quello lì ti dà la possibilità di giocare una bellissima pallacanestro ma anche per chi la guarda ti dico la verità costa un milione di dollari il giocatore sì quel giocatore tende a costicchiare ti dico la verità quando sei arrivato io ho pensato ma come farà Cinciarini a giocare con Sacchetti perché Cincia a Reggio Emilia giocava al limite di 24 secondi e ha 37 anni in realtà in queste partite con te e questo dimostra la sua intelligenza lo abbiamo visto adattarsi al tuo gioco e anche avere la freschezza che comunque è un ragazzo della sua età corre dietro sicuramente molto professionale se no non arrivava a questa età in queste condizioni fisiche perciò merito suo che si è sempre allenato curato bene e di questo poi un giocatore se è intelligente di questo e ha le capacità sa che può giocare in una certa maniera e in un'altra è logico che è difficile per uno adattarsi ad un modo completamente diverso però non è uno che cammina in campo Cinciarini che allora dice sai cammina in campo ha quasi 40 anni non cammina ogni tanto ha più agilità più velocità di giocatori più giovani perciò può andare questo lo aiuta sicuramente il suo modo di essere atleta che lo aiuta in queste situazioni poi abbiamo visto che avete creato una buona sintonia comunque beh sicuramente voglio dirti il problema di questo è che è un giocatore che ha fatto una certa carriera è arrivato a Pesaro nella città gioca in una situazione difficile davanti a questo e non vuole certamente arrivare qua a tirare indietro e dire ah si ormai è fatta io penso che lui giocherà tutte le partite al massimo perché non vuole finire la stagione in questo modo qua come giusto che sia per tante cose per la sua carriera e poi sono a Pesaro è una cosa l'altra è diverso ancora da tutti gli altri poi spero che qualcuno l'abbia capito speriamo ho qualche domanda vai Giovanni subito coach se si può chiedere Michael ci chiede fino a che età vorrà allenare io volevo allenare questi mesi qua e basta ok perciò quando ho fatto questo che gli ho detto ho parlato con il mio agente gli ho detto io voglio allenare questa cosa qua e tutto e onestamente ritorno sempre non pensavo di divertirmi così perciò il merito di questo è stato da una parte di mia moglie e dall'altra parte del mio del mio staff e questo che mi hanno che mi ha aiutato a stare bene davanti a questo poi ve l'ho già detto la casa è stata la cosa importante no sembra una stupidaggine però voglio dire è così cioè trovarsi bene in un posto ti fa eh certo poi scendi voglio dire ti arrivi scendi c'è il mare voglio dire c'è tutto io l'altra volta sono andato a passeggiare sul mare cosa così ho beccato due lì che arrivavano e poi mi ha attaccato un bottone mezz'ora mi ha raccontato vita, morte e miracoli della pallacanestro di Pesaro cioè voglio dire vivete per questa cosa qua cioè il problema è questo dovete portare nel futuro qualche giocatore di Pesaro a giocare in Serie A dovete fare questa cosa qua prendiamo come impegno Luca a tutti i settori giovanili Luca Vedenotti ci scrive la ringrazio ancora per il libro che mi ha firmato a Pesaro quando allenava Brindisi speriamo che ora me lo rifirmerà di nuovo sperando in un esito positivo ti lascio un attimo la parola se vuoi per questo libro allora questo qui è il libro sulla vita di meo sacchetti non arriva fino ai giorni d'oggi perché è stato scritto da un giornalista sardo l'ho scritto quando mi hanno mandato via da Sassari è vero? sì è scritto con Nando Mura molto bravo io dico la verità ve lo consiglio perché vi fa scoprire un meo che forse non conoscete non è un libro solo sulla palacanestra è un libro un po' di della mia vita di delle persone che non è solo un qualcosa di legato alla palacanestra è un po' un insieme ogni tanto dico certe cose le volevo scrivere mia moglie non me le ha fatte scrivere è di tutto però è è stato piacevole quelli che mi hanno detto hanno detto sì è piacevole non è solo palacanestra è altro è vero soprattutto all'inizio dove io sono rimasta molto colpita da questa cosa che tu sei nato in un posto dove uno non potrebbe immaginare vuoi raccontarlo? ma sì ancora adesso me lo dicono cioè voglio dire io sono nato in un ex campo di prigionia ad Altamura è un ex campo di prigionia che possono diventare i profughi i miei sono arrivati dalla Romania ma erano originari del Trentino ed erano famosi a fare i san pietrini i cubetti di porfido per fare le strade erano andati a lavorare con il re rumeno in una cava facevano una cava ed era questo gruppo qua di italiani facevano una cava poi come finiva una cava si spostavano da un'altra parte infatti i miei tre fratelli che sono nati in tre città diverse me le ricordo e non ve le dico tutte Braila, Macine, Tirgumurish pensa che mi ricordo questo poi come è finita la guerra è finita la guerra l'Unione Sovietica è entrata i comunisti avevano un doppio passaporto gli hanno detto o rumeni o italiani certi sono rimasti là mio padre ha detto no no io sono italiano torno in Italia e di tutto allora siamo tornati in Italia questa me la racconta mia sorella perché mia madre non mi ha mai raccontato questo e a un certo momento mi racconta che siamo arrivati a Udini in una caserma poi ci hanno messo a termini merese in Sicilia in un altro campo poi da lì ci siamo spostati ad Altamura io sono nato il 20 agosto e mio padre è morto a febbraio dell'anno dopo perciò io non l'ho mai conosciuto davanti a questo e dico una cosa che può dare fastidio a qualcuno io non ho mai sentito la mancanza di mio padre perché non l'ho mai conosciuto non l'ho mai avuto perciò non ho patito quegli altri che mi parlavano perché questo perché probabilmente le mie sorelle più che mia madre non mi hanno fatto mancare questa cosa qua tu eri più piccolo eri più piccolo ho stato coccolato davanti a questo perciò non sono mai stato ecco e ho fatto un'infanzia povera però non l'ho mai fatta da da sentirmi povero rispetto agli altri l'unica cosa che mi rompia le scatole poi l'ho messa anche nel libro e che io andavo molto bene a scuola alle scuole medie e prendevo sempre la borsa di studio che andavamo in comune ci davano questi 20-30 mila lire che per noi e mi diceva se sei promosso il prossimo anno ti compriamo la bicicletta e ogni anno non me la compravamo finché alla terza volta che sono stato promosso in terza media vado lì da mia sorella e mia madre che stavano parlando in rumeno e gli ho detto sono stato promosso e loro hanno detto ah hai fatto il tuo dovere e hanno continuato a parlare in rumeno e io sono andato via probabilmente mi sono anche messo a piangere poi però ho scoperto perché non me la compravano perché non avevamo i soldi e allora usavo quello di mia madre e perciò però ho fatto un'infanzia bellissima non ho rimpianti di questo è bellissima forse non l'auguro però voglio dire non è non è ogni tanto dicono se hai questa infanzia ti porti dietro tutto questo e tutto probabilmente mi hanno aiutato come ho detto le mie sorelle e poi mi ha aiutato molto quando ho finito di giocare a Novara che giocava in promozione sono andato a Dasty a giocare a Dasty giocavo in promozione poi siamo andati in Serie B a Dasty e ho iniziato a giocare con Amos Benevelli con Caglieri Riva De Simone e tutto e loro mi hanno trattato come uno di loro non mi hanno trattato come un bambino non mi hanno bullizzato no? non so ogni tanto mi dicevano dai vieni a mangiare con noi mi caricavano in macchina no? hai capito? perciò io mi sono sentito così e infatti quando sono venuto fuori che poi sono diventato al giocatore allenatore ho sempre cercato di avere questo rapporto importante con i giocatori giovani di questo perché non mi piace quando si bullizzano i giovani non mi piace questo poi perché poi fanno quei discorsi io da giovane me ne hanno detto trattati così allora anch'io ti devo trattare cosa c'entra? ti hanno trattato hai capito? che è una cosa sbagliata non farlo tu sugli altri hai capito? e allora quello mi dà un fastidio vedere trattare i giovani proprio male davanti a questo questa è una delle cose che mi dà più fastidio ti ringraziamo coach perché a cuore aperto ho raccontato una storia molto bella magari anche per farti conoscere un po' meglio no? perché non è da tutti essere venuto fuori da una situazione insomma così ma sì ma io sono contento felice di questo e spero di continuare ad essere felice adesso che ho vinto a Sassari sono più felice di questo infatti probabilmente mia moglie mi ha detto vedi tu devi ancora andare a Sassari allora probabilmente siccome non non mi ricordavo di aver vinto a Sassari hai capito? invece mi hanno detto che avevo vinto in conferenza stampa glielo hanno ricordato però non mi ricordo quella partita lì i supplementari non me la ricordo proprio hanno detto che era l'esordio di Pozzecco non me la ricordo va bene così almeno questa vittoria di peso era stata più apprezzata perché pensavi fosse la prima e invece era la seconda però era la prima per noi e quindi questa rimane negli annali è un po' che non ci scrive Tiziana addirittura ne sono arrivate due oggi è arrivata la dottoressa Tiziana questa è una persona che ci scrive buonasera vorrei ricordare che Tiziana ha azzeccato il pronostico della partita di Pistoia non ci credo sì quindi oggi della partita dell'andata sì è vero adesso deve dirlo adesso no un attimo abbiamo questa dottoressa Tiziana che ci scrive buonasera a tutti volevo sapere da Bettaferri e Kevin se sanno qualcosa se secondo loro nell'auditorio un scavolino si potrà giocare a basket però penso che non sia un campo regolare se me lo confermo allora che non si potrà giocare a basket non ci giurerei che non ci giocherà mai la VL sono sicura perché non ha nemmeno la capienza per la 2 quindi a meno che non precipitiamo nelle minors che non credo penso che si potrebbero giocare delle partite di serie B per esempio però da quello che abbiamo visto finora per le poche cose che sono state fatte dentro lì credo che sarà più una cosa di concerti convegni tentendo non l'ho ben seguito devo dire essendo anche in un'altra città ho guardato soltanto ho letto ma penso che confermo tutto quello che hai detto diciamo ma anche perché smontare tutto per metterci il campo poi rimontare tutto per altre cose sono cose che si possono fare però penso che ci punti la pallavolo ad andarci a giocare dì le ragazze non penso che ci abbiano dei problemi perché poi non c'è lo spazio dietro per andare a prendere lo spazio la palla arriverebbe andrebbe a finire chissà non lo so non mi sembra una cosa e poi secondo me almeno questo lo penso io non bisogna tornare indietro cioè essere nostalgici di un posto lo capisco e lo so anch'io perché lì dentro siamo cresciuti abbiamo visto lo scudetto eccetera però il nostro palazzo da vent'anni ormai da più di vent'anni è la vitrifrigoarena perché ancora non dobbiamo starci bene io ci sto bene e quando è pieno il fattore campo si sente anche lì è chiaro il paragone non regge l'hangara era un'altra cosa ma vuol dire non guardare al futuro ancora pensare di tornare a giocare lì secondo me ma sai io ti parlo da persone che tutto quello che tu hai visto e vissuto l'ha visto nelle videocassette certo ma ho vissuto ho iniziato ad essere presente a palazzo per seguire il basket quando ancora c'era l'ultimo anno di Ford quindi l'Eurolega palazzetto pieno la semifinale con Milano eccetera andando avanti il fattore campo si sente è uno dei palazzo sport più belli in Italia bisogna dire la verità poi è chiaro che c'è questo fatto che il campo è un po' lontano ok però quando ci sono anche solo 5-6 mila persone le senti le senti senti più quelle 5-6 mila persone lì che magari in altri palazzo dove magari il campo è più vicino ok a colpo d'occhio ti dà wow c'è più gente è più pieno però in realtà magari non è così l'unico errore di quel palazzo sono quegli 8 metri che abbiamo calcolato subito quando è stato aperto tra la prima fila e il parquet che non c'entra non dovevano farli non servono tutto quello spazio invece a Milano per esempio il palazzo è grande come il nostro ma la prima fila è sul campo ma tu dici che io sono ignorante ma tu dici che questo palazzo l'hanno fatto per la palacanestro o per qualcos'altro? beh sicuramente dopo la vittoria del secondo scudetto c'è stata l'esigenza di costruire un impianto più grande perché erano 7 anni che era sold out e quindi non era giusto perché tanta gente non poteva entrare al palazzo e quindi dice abbiamo vinto due scudetti facciamo un palazzo nuovo però poi per costruirlo sono successe mille traversie non pensavate mai di fare una cosa così grande? no assolutamente e poi comunque ci hanno messo 6 anni per cui dal 90 che è stato vinto il secondo scudetto al 96 che è stato inaugurato il ciclo dei grandi vecchi era finito e quindi a quel punto ci siamo andati dentro con una squadra nuova che l'anno dopo è retrocessa ma dove giocavate in quel periodo lì? ah sì sì fino al 96 al vecchio Palace e poi dal 96 al nuovo Palace però non c'era più quella squadra cioè l'ultimo anno con Riva dell'Agnello magnifico Grasius Costa al vecchio Palace e l'anno dopo non c'era più nessuno di quei giocatori quindi chiaramente è stato dura trasferirsi di là senza più avere la squadra forte la maledizione del palazzetto te l'hanno detto? no l'ho detto io adesso c'è la maledizione proprio ma molta gente all'inizio era convinta che questo palazzo portasse sfortuna perché come ti dico si siamo trasferiti nel 96 e nel 98 siamo retrocessi poi però lì dentro come dice Kevin c'è stata l'Eurolega c'è stato Alfonso Ford c'è stato Charlie Smith c'è stato Booker Blair De Marco Johnson ma non possiamo dir di non aver visto una grande palacanestro lì dentro c'è stato Hackett ricordo le vittorie con il Barcellona e contro il Maccabi Tel Aviv poi vinse l'Eurolega tutto il Maccabi Tel Aviv con Tony Parker Maceo Bastos se non ricordo male era uno squadrone e tu hai vinto lì dopo tra l'altro se non ricordo male la sconfitta di 50 punti in Israele che loro si presentarono ho questo flash che loro si presentarono nella curva nello spazio risalto dei settori ospiti con questi A4 con scritto meno 51 tutto carino ha vinto Pesaro è vero bene continuiamo abbiamo qualche domanda ci scrive finito il tempo è vero un'ora però dobbiamo ancora vedere gli highlight di Pistoia scusami un attimo molto veloce Tiziana però ci scrive la nostra diciamo comunque ha azzeccato l'andata di Pistoia e il ritorno ha scritto un pronostico prevede una lotta molto intensa sabato 7772 per noi adesso me lo segno se c'ha azzecca per la seconda volta non so gli dobbiamo pagare qualcosa un messaggio dal grande Max da Pesaro Max Belegni che salutiamo un grande grazie al coach per avermi autografato la settimana scorsa il libro per sabato tutti al palazzo a sostenere la nostra amata VL crediamo nella salvezza perché ancora non è finita un saluto a Meo Betta e Kevin fino alla fine forza VL Max poi ci chiedono Daniele ci chiede quando potrebbe e dovrebbe rientrare Toteco come sta telefonate al dottore Mancini o Benelli Tutte e due Allora adesso io do una risposta giornalistica però non lo so io avevo sentito delle indiscrezioni che forse sarebbe potuto tornare per la partita con Cremona però cioè quando un giocatore sta fuori un mese coach tu mi insegni che forse si perde anche un po' Io penso che queste parole non le dobbiamo fare noi dobbiamo pensare alla partita di domenica e non pensare quando rientra cosa rientra abbiamo questa partita qua ma pensiamo sta partita poi dopo questa partita penseremo il resto io non voglio pensare più in là di questa partita Giusto Allora andiamo a vedere gli highlight di Pistoia e Reggio Emilia Andrea così andiamo a chiudere diciamo il discorso su questa settimana questa è la partita che hanno vinto in casa con Reggio Emilia una partita che praticamente li ha consolidati al sesto posto possono puntare addirittura anche al quinto dai meo questa è indiscutibilmente la rivelazione del campionato Pistoia Beh sicuramente sì che meriti gli dai a questa società Beh sicuramente meriti alla società hanno fatto una bella campagna acquisti merito all'allenatore che è nettamente il migliore allenatore di tutto il campionato adesso poi ci saranno le votazioni e tutto però voglio dire vedendo dal di fuori tutto questo Pistoia ha detto di tutti all'inizio era forse la candidata sicuramente che giocava con cinque americani uno era l'infortunato e tutto questo Tutti dicevano che retrocedevano a piombo Ma sì ma infatti voglio dire hanno una squadra così che ha vinto delle partite ha vinto a Milano ha vinto a Milano era sotto di 18 punti ha vinto a Bologna sotto di 15-16 punti perciò hanno questo entusiasmo hanno sicuramente questi giocatori americani molto forti molto bravi però ha questo nucleo di italiani che era quello della 2 che tra le altre cose hanno buttato fuori me a Cantù ci ha buttato fuori è tutto però hanno sono bravissimi perché hanno un ruolo ben preciso dentro in questa squadra qua si vede proprio che hanno questa attacca a me piace proprio quando si vede questa squadra che la vedi dalla panchina che sono sono quando succede qualcosa saltano si muovono questo è un bel segnale e quello è molto bello è quello che poi ti aiuta a vincere qualche partita che magari è già persa nella cosa perciò complimenti sicuramente hanno fatto qualificazione alla Coppa Italia adesso forse farà in playoff dai sì speriamo che ci pensino in playoff da domenica senti Kevin la società americana East Coast Sport Group Italia ha appena acquistato Pistoia Ron Rowan diventerà il presidente dopo aver vestito la stessa maglia per tre stagioni oltre 30 anni fa sarebbe un po' come se da Rendei comprasse la VL ecco che si dice in giro di questa operazione la speranza per il basket italiano è una che sia un'accordata con la volontà di costruire un progetto le capacità economiche ovviamente pare ci siano la volontà di costruire un progetto che non vuol dire arrivo ho comprato il mio nuovo giocattolino butto i soldi poi quando mi sono stufato grazie e rivederci a tutti assolutamente no la speranza è che prendano quanto di buono la società di Pistoia ha fatto ritornando in a uno è quello che sta facendo in questo campionato con Brienza e tutti i giocatori tutto lo staff per costruire mattoncino dopo mattoncino e vedere magari mi auguro per tutti i tifosi in generale tutti a coloro cui piace il basket spero si augurano questa cosa di vedere Pistoia tra due tre quattro stagioni con calma senza fretta magari ai vertici del campionato perché questa cordata ha fatto tutte le cose a modo e a dovere ha attirato giocatori ma non è che li attiri soltanto pagandoli perché di disponibilità all'estero ci sono tante squadre che possono versare tanti soldi ma perché c'è un progetto perché ci sono delle facilities quindi quello è anche l'importante il contorno e non solo un altro Rowan con il quale ho parlato due giorni fa per questa intervista che è uscita su Corea dello Sport oggi e mi ha detto che lui aveva avuto altre due possibilità cioè poteva entrare a Roma con Toti e poi in questa cordata con Trieste e però alla fine è tornato a Pistoia dove aveva giocato quindi questa cosa probabilmente del legame che aveva mantenuto ha contato ha contato aver giocato lì tre anni secondo te tu prenderesti mai se avessi tanti soldi un club beh dipende se gli americani vengono qua per fare qualcosa sì lo prendono per il club della pallacanestro ma poi per qua anche penso che ci sia altri interessi ma qualcosa ci deve essere sicuramente davanti a questo di sviluppare qualcosa entrare probabilmente anche nel tessuto della società per il loro lavoro di avere più possibilità sotto questo aspetto qua poi oppure Ranulowen è diventato un miliardario e dice ci vuole che chi è che può essere diventato miliardario di Pesaro come dicevo Darren Day che lavora nel campo non so miliardario non lo so però ha sempre lavorato nel campo finanziario è diventato molto bravo ma non credo proprio che vorrebbe mettere i soldi nella VL è difficile si vuole coraggio per investire nel basket italiano ci vuole veramente voglia e coraggio secondo me dobbiamo trovare un arabo l'abbiamo già detto l'altra volta un arabo che ha tanti soldi che ha voglia di compararsi la VL vedremo dai qualche investitore comunque bisogna cercarlo per cercare di innalzare un po' dai le possibilità di questa piazza per non dover sempre soffrire così e adesso a questo proposito scusami ho qualche comunicazione intanto faccio veramente i miei complimenti a coach Romeo Sacchetti che sabato arriverà a 400 panchine in Serie A sicuramente mi fa molto onore la Carpegna Prosciutto quindi comunica che sono acquistabili i biglietti per assistere al 27esimo match di giornata del campionato di massimo campionato di Serie A con la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro contro Pistoia alle ore 20 e 30 alla Vita di Frigo Arena i biglietti al Prodi Sport Point Pesaro i punti vendita Viva Ticket online oppure presso la biglietteria della Vita di Frigo Arena dalle ore 18 e 30 di sabato però volevo informarvi che domani il coach Romeo Sacchetti presenterà la partita di sabato alle ore 10 sui canali social della Victoria Libertas Basket Pesaro bene allora noi abbiamo composto intanto complimenti per le 400 panchine l'avrei detto alla fine ma vedo che i tifosi sono attenti non sono per i numeri non è per i numeri però è un bel traguardo comunque 400 panchine in Serie A e abbiamo composto un mix delle rocambolesche salvezze ottenute in quest'ultimo decennio allora andiamo a a vederci il tiro di Ston Turner qui è la stagione con la Nozic appunto 2013-14 questo è il tiro contro la Virtus che è stata una cosa pazzesca questa invece è la Liup per la Quinton Ross questa è una cosa incredibile a capo di Orlando che prende fallo gli arbitri fischiano a fallo a tempo scaduto andrà a battere due tiri liberi con cui portiamo a casa una vittoria insperata ma come ha tirato quei tiri liberi? guarda che quel canestro lì l'ha fatto in in un playoff di Eurolega Milano contro quindi ha studiato la rimessa contro cosa? contro il Bayern e lo spareggio diciamo chiamiamolo spareggio in realtà era una delle ultime partite di campionato contro Caserta anche qui Ross fece una partita incredibile qua invece siamo all'arrivo di Rodney Clark l'uomo della provvidenza pescata in Australia che tornò addirittura un altro anno successivamente che si è ritirato ai primi di gennaio ecco si è ritirato da poco tornò per per salvare di nuovo la VL quindi ne abbiamo già citate 5 quindi dal 2014 al 2018 per non parlare poi di quella del covid vabbè quella non è una salvezza è solo un campionato interrotto e quindi qua la gente a Pesaro ha rischiato la vita ormai per molti anni è finita con tante tante invasioni di campo e speriamo che siano di buon auspicio per la salvezza che ancora inseguiamo ecco ti lascio se vuoi per un saluto alla gente che ad ascoltarti che ma io facevo un discorso l'altra volta avete parlato di questi 8000 persone che c'erano contro la Virtus per me è stato più importante al di là del risultato i quasi 6.000 persone che c'erano contro Brindisi vero perché 8.000 contro la Virtus ci potevano essere perciò l'affetto provato per questa squadra è dato più da da quasi 6.000 persone contro Brindisi in un periodo che non vincevamo mai questo è evidente perché poi voi avete infattizzato molto di 8.000 della Virtus però erano più facili degli 8.000 della Virtus che quasi 6.000 di di Brindisi in una città così piccola ti sorprende è una città di 90.000 abitanti già il fatto che abbia un palazzo da 10.000 è un'anomalia poi che lo riempia è una seconda beh però sai io ci sono passato da giocatore e tutto ho vissuto insulti da tutte le parti però meglio gli insulti che essere non io ho sempre detto se ti insultano perché ti temo hanno paura ma però lo dico sempre quando ero qua a Pesaro che c'erano le panchine su due livelli io ho una partita di lì mi è rimasta impressa questa la devo dire vicino c'era un ragazzino che avrà avuto 12 anni avevate Joe Pace ok e tutti impazzivano per Joe Pace questa ragazzina a un certo momento ha detto qui tutti Joe Pace ma questa è solo finta non fa niente io mi sono girato ho guardato questi 12 anni e ho detto come fa a pensare solo finta che di solito un bambino vedeva questo che schiacciava che faceva si sarebbe casato e questo qua ha detto no fa solo finta di questa e deve essere più concreto in queste cose e sono rimasto così di cosa di questa ragazzina avrà avuto 12 anni cioè esprimeva già un giudizio tecnico sì sì voglio dirti davanti a questo ho detto ma come mai questi qua di solito guardano queste cose qua le schiacciate e tutto però chi sarà oggi quel ragazzino che ha avuto quest'occhio se qualcuno è all'ascolto e si riconosce può salutare sicuramente io ne avrò avuti forse neanche 30 perciò 20 50 anni sicuramente ce li ha ho un'ultima domanda che ci arriva da Mauro Coccio si ricorda della finale delle 90 contro Pesaro e se pensa che senza il suo infortunio in guerra 4 sarebbe cambiato qualcosa secondo lei vado via ho già parlato e tutto non faccio con i secondi ma non si fa mai niente di questo mi è dispiessuto perché mi mi sono fatto male mi sarebbe piaciuto giocare queste 5 partite non l'ho fatto il destino ho guardato giù e basta è finita con i secondi ma non si fa niente perciò è successo tante volte e basta hai detto anche che non hai voluto guardare quel filmato per molti mesi per qualche mese ho detto perché tutti mi dicevano è così stai strappando per terra poi l'ho rivisto effettivamente sono caduto mi ha fatto molto male onestamente di questo però poi dopo sicuramente ho lasciato molto del mio fisico sul campo di pallacanestro perché lo sport professionistico non fa bene lo sport fa benissimo lo sport professionistico non fa bene perciò fate lo sport giocate a questi livelli poi sapete che se volete andare avanti a livello professionistico dovete andare incontro a qualcosa di importante però adesso vedo che c'è molta più attenzione e cura su questa cosa qua del proprio fisico cioè io mi ricordo che una volta uno se si faceva male la caviglia una cosa così se la faceva stringere di più e giocava sono sono dopo si paga quello vero? io non ho mai mi è successo una volta che ero allenatore sono passato davanti allo spogliatoio e c'era dentro un dottore qualcosa che gli diceva non fagliene solo una di puntura fagliene due forza cosa io non ho detto niente come sono arrivati in panchina quel giocatore non l'ho mai fatto giocare perché secondo te bisogna fare secondo te il giocatore durante la stagione non puoi fare arrivi all'ultima partita o decisiva o qualcosa del genere va dal giocatore e dice ti senti di giocare davanti a questo se lui se la sente se la fa se lui se la sente anche di farlo la società non può permettere di rischiare di perdere poi un giocatore per mesi e mesi la mia idea è questa certo allora diamo la risposta dai contesti il vincitore è Fabrizio vinse la Berloni 86-85 vincendo al Vecchio Palace che aveva vinto anche all'andata 86-83 6 gennaio 1982 vinceste di un punto al Vecchio Palace ti ricordavi che era finita di uno? no però mi ricordò che i Berloni ci portarono fuori a mangiare molto bene questo me lo ricordo questo te lo ricordi quindi sicuramente ma di fatti adesso non voglio dire ma i Berloni sono vivi non sono vivi? no Marcello non c'è più ci sono i figli se vorresti entrare in contatto lo possiamo fare certo sarei contento di salutare dai va bene dalla Serie A alle Minors quando vinci poi esce sino ma anche se perdi eventualmente bene ragazzi allora io ringrazio tantissimo Meo Sacchetti sono le 22.34 ti abbiamo rubato 15 minuti quindi il bonus per questo quarto d'oro in più ma eravamo abbastanza sicuri che la puntata avrebbe avuto una coda un po' più lunga perché dai il personaggio lo meritava mi sono prolungato ogni tanto grazie anche a Kevin grazie mille e in bocca al lupo per il tuo lavoro io ringrazio anche Giovanni Zidda ai social Andrea Sabattini in regia e come sempre ci diamo appuntamento a giovedì prossimo e speriamo davvero ancora di raccontarvi belle cose buona serata hai visto quante novità al Conad di Montecchio ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto sì bellissimo ormai è il mio punto di riferimento trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti per non parlare della grande professionalità del personale e ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto noi andiamo al Conad di Montecchio da più di un secolo sul territorio macchini ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili pavimenti rivestimenti parche ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza la nostra disponibilità competenza e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia macchini ceramiche sempre al vostro servizio e e Grazie a tutti.